L'ho detto pure a Federica, umani ronchi. Ah sì? Sì, dice che partecipa, ora vediamo. Forse stanno mancicchiano. Ok, noi dovremmo essere in diretta adesso. Fammi vedere un attimo. Ok, sì, siamo in diretta. Bene Roby e buonasera a tutti. Io è la prima volta in realtà che uso Zoom per andare in diretta a Facebook e quindi farò un po' di fatica forse a vedere i commenti, ma cercherò di guardarli da questa parte. Quindi farò un po' di fatica forse. Così ce li ho solo. Eccoli qua, sì, ci sono. Elisa, Claudia, Roberta. Ciao Taisia, che è qui con noi. Se puoi togliere il tuo video mi fai un piacere. Così puoi togliere il tuo video, Taisi, per favore. Sì, già fatto. Grazie. Ok, quindi serata particolare in cui ho quasi obbligato il nostro amico dottor Masselli Roberto a parlare di questo tema, un tema che appunto è abbastanza caldo in questo periodo e quindi insomma mi faceva piacere, come abbiamo fatto tempo fa per altre tematiche abbastanza calde, ti ricordi Roby, abbiamo insomma cercato di prendere un po' le informazioni in modo neutrale proprio per valutarle, no? Senza tanto essere di parte quanto per fare proprio una valutazione, un po' un discernimento di quello che è disponibile. Mi sembrava che Roberto fosse sicuramente la persona più adatta per trattare un tema del genere che insomma è un tema comunque delicato, che risveglia in noi poi italiani che siamo delle buonissime forchette e nel senso anche di qualità del cibo. Ecco, vedo un po' in giro che parlare di questo tema è sempre, insomma risveglia sempre un pochettino di difese e di disgusti. Quindi insomma, Roberto intanto grazie di essere qua con noi stasera. Grazie a voi, ci mancherebbe. Hai questo grandissimo favore di approfondire questo tema di cui sicuramente tu ci potrai arricchire la visione, sempre come fai sempre tu. Dunque innanzitutto vorrei dire che non possiamo ridurre il tutto a dei titoli giornalistici che ci dicono, ci costringono a mangiare scarafaggi e vermi. Certo detto così è una frase di chiusura totale, mi rendo perfettamente conto. Non voglio fare una cosa scientifica, voglio fare una cosa un po' curiosa, anche perché sennò sarebbe noiosa la cosa. Per cui detto in questo modo sarebbe un po' riduttivo, quindi non è giusto perché bisogna che lo spettatore, la persona, la persona della strada, il cittadino, si faccia un'idea sua a 360 gradi. Poi per quello che riguarda il gusto personale non si discute, ci mancherebbe. Però innanzitutto si parte dal fatto che la faccio oggi questa trasmissione grazie all'ospitalità di Francesca, perché il 26 gennaio è stata introdotta una quarta specie edibile di insetti nell'Europa, cioè l'Alfitobius di Aperinus, che sarebbe la larva minore della tarma del grano, della farina. Quindi è la quarta specie di insetto che viene introdotta nella UE. Molte sono state le polemiche, perché chiaramente la UE, tutti dicono, chiaramente non è ben vista in questo momento per altri motivi, adesso non facciamo polemiche, però dice ci vogliono imporre le cose. Questa non parte dalla UE, la cosa degli insetti fa parte dei cosiddetti novel food, cioè i nuovi alimenti che ci saranno. È una cosa che parte dalla FAO, dall'OMS, parte da molto lontano. Parte dalla considerazione che la popolazione del resto si sta impiando notevolmente. Nel 2030 saremo a 8,7 miliardi, nel 2050 probabilmente intorno ai 9 miliardi e mezzo, 10. Quindi questo comporta che, pensando che ad oggi ci sono circa tra gli 800 milioni e un miliardo di persone che sono alla fame, non dobbiamo pensare a questa cosa solo per casa nostra, ma dobbiamo pensarla anche in un'ottica di un sostentamento per queste generazioni che verranno. anche perché la Terra non finirà con me, non finirà con voi, perché la Terra c'ha davanti circa 3 milioni d'anni ancora di vivere, che sarebbe quanto vive ancora il Sole, perché un giorno quando il Sole si espanderà alla fine della sua vita, ci ingloberà pure a noi. Per cui non lo so, come ho detto anche in un'altra situazione, che si mangerà alla gente, alla romana, quando saremo nel 2100, nel 2150, nel 2200. Quindi bisogna partire da molto prima, no? Per essere preparati. E bisogna partire molto prima perché già nel 2000, nel 2050, il 70% della popolazione del resto sarà, sarà, è incentrata nelle città. e sarà talmente aumentata la popolazione del resto che non potrà più sostenere semplicemente un'alimentazione basata sull'allevamento del bestiame tradizionale e né tantomeno sull'alimentazione basata, per esempio, sulla soglia. Ricordo che ad oggi il 70% della soglia coltivata sulla Terra è destinata all'alimentazione del bestiame. Però la soglia comporta l'utilizzo di grandissime quantità di terreno, di acqua, di pesticidi, perché la soglia pure viene attaccata, no? E tutto questo è insostenibile. La coltivazione di soglia provoca, per esempio, deforestazione, perché devono trovare sempre più terreni per coltivare la soglia, per mantenere appunto gli animali di allevamento. Quindi gli insetti cosa sono? Non è che sostituiranno la bistecca, non è che sostituiranno la pasta, è un'integrazione. È un'integrazione che sarà anche utile per gli animali di allevamento. Quindi quanti gli animali di allevamento in natura, se pensate alle galline, ai polli ruspanti, mangiano delle larve, no? Quando mangiano nel terreno. Così, per esempio, le trote, i pesci di torrente, mangiano comunemente gli insetti che trovano in natura. Quindi pensare che tra poco anche gli insetti saranno dati come cibo, per esempio, all'acquacultura, o all'allevamento dei polli, o all'allevamento di altro bestiame, non deve far torcere il naso. Naturalmente poi non saranno insetti sicuramente in forma intera, diciamo, sia per quello che riguarda le larghe, sia per quello che riguarda l'insetto adulto, ma saranno dei trasformati, quindi saranno delle polveri, delle farine, esattamente proteiche, che non ricordano più la forma dell'insetto, naturalmente. E quindi i presupposti sono stati della FAO, questo, trovare delle nuove risorse di alimentazione, c'è meno consumo di terreno, come abbiamo detto, c'è meno consumo di acqua, e c'è un'alta resa energetica, perché per esempio gli insetti, per aumentare di un chilo di massa, consumano due chili di mangime, e invece una mucca consuma otto chilogrammi di mangime. E poi non solo, poi gli insetti mangiano per esempio la crusca, la lettiera, sono tutti scarti della filiera alimentare odierna, quindi il costo praticamente di mantenimento è irrisorio. Possono essere confinati in spazi abbastanza ristretti, e quindi da un punto di vista della sostenibilità ambientale dicono molte cose. Naturalmente farò arrabbiare un mio amico quando parlerò del fatto che, a prescindere da quello che uno pensa, emettono anche meno gas serra, perché una mucca emette circa 3.000 grammi, quindi 3 chili di gas serra all'anno, contro pochi grammi da parte di un insetto. Quindi, a parte le convinzioni personali, anche se convinzioni non sono, perché a me attualmente mi bloccano la macchina diesel Euro 6 quando ci sta il blocco del traffico, perché dicono appunto l'emissione del gas serra fa aumentare il clima, quindi devo pensare che c'è più di qualcuno sulla terra che è convinto di questo. Quindi è sostenibile l'allevamento di insetti anche da questo punto di vista, poi chiaramente se ne può discutere. Quindi questi sono i presupposti. Naturalmente va valutato anche da un punto di vista nutrizionale il lavorato dell'insetto, quindi la farina, eccetera. Gli insetti possono arrivare anche al 70-80% di contenuto di proteine. Ricordiamo che la carne di manzo c'ha 22-24 grammi di proteine per 100 grammi. La mucca, per esempio, può essere consumata fino al 40%, un pollo al 55%, un insetto può essere consumato totalmente. Quindi la resa è molto grande. Da un punto di vista nutrizionale, le proteine derivate dagli insetti hanno tutti gli amminoacidi essenziali, quindi non avranno nessuna carenza, hanno tutti i micronutrienti, hanno addirittura le vitamine, hanno due terzi di acidi grassi insaturi e omega-3, qualche specie. Quindi dal punto di vista nutrizionale e organolettico non gli si può dire nulla. Naturalmente poi tratterò anche gli altri argomenti. e quindi questo ci pone al fatto che potrebbe essere integrato nell'alimentazione umana. Uno può dire, vabbè, capisco che per esempio ci sono ad oggi due miliardi di persone nel resto del mondo che mangiano insetti. Come dicevamo prima con Francesca, che è stato da tanti anni in Messico, il Messico è uno dei più grandi, è il più grande consumatore di insetti edibili della Terra. E poi gli altri grandi consumatori sono l'estremo oriente, quindi la Thailandia, il Vietnam, la Cina, l'India, ma anche il Giappone, il Giappone occidentalissimo, il Giappone che ha dei piatti tradizionali, consuma da sempre nella tradizione delle cavallette nutrite con la mandorla, con le mandorle, perché abbiano questo sapore, e un piatto tradizionale fatto addirittura con le larve di vespe. Quindi, cosa che non si penserebbe, il Giappone sì è in estremo oriente, ma è un paese molto occidentale, invece già c'è. Quindi ad oggi due miliardi di persone mangiano abitualmente insetti nel mondo. Allora uno potrebbe dire, vabbè io sto in Italia, sto nella UE, e faglieli mangiare pure a loro. Continui a fargli mangiare a loro. Con una domanda però, noi siamo certi che in Italia, nel resto d'Europa, in certi paesi d'Europa, ci sia la disponibilità per tutte le fasce di popolazione di avere una nutrizione sana e completa da tutti i punti di vista. Da un punto di vista economico, ci possono essere delle fasce di popolazioni che non arrivano a mangiare tre pasti al giorno. Non deve sorprendere, perché quando si vuole si guardano filmati di anziani, anche di casa nostra, che vanno a rovistare a l'ora di pranzo nei cassonetti vicino ai mercati generali, e non è uno scandalo, per carità. Quindi noi non possiamo essere certi che nell'UE, nell'Unione Europea, nei paesi dell'est europeo, non ci siano persone che non possono accedere a risorse alimentari che consentono una crescita ottimale dei propri figli, una vecchiaia ottimale dei propri anziani, e quindi un'integrazione di una fonte proteica lavorata, quindi non vi sto dicendo che uno si debba mangiare le cavallette fritte, ma di una produzione, di un prodotto proteico derivato dagli insetti possa essere un'utile integrazione anche per questa fascia di popolazione, perché gli aspetti sociali sono importanti. Quindi niente paura, non sostituirà nulla la farina di insetti, sarà integrata. Naturalmente c'è una normativa, perché se no la gente ti salta subito alla gola, cioè vale a dire che la farina di insetti sarà ben indicata su dove verrà messa. C'è il comma 33 dell'articolo 9 della legge 2283 del 2015, chi lo vuole andare a vedere, che cita appunto che c'è proprio un obbligo di etichettatura, anche aggiuntivo, vale a dire che non sarà solo scritto sugli ingredienti che sono dietro in maniera pidocchina magari, ma sarà proprio scritto sul pronto e spizio dove sta la marca, dove sta il nome commerciale, sarà proprio indicato, contiene farina di insetti, contiene derivati degli insetti. Quindi niente paura, perché si sentono in giro delle fake news che dicono che potrà essere introdotta nei creche, nei cristini, nella pasta, in prodotti a forma, eccetera, eccetera. è tutto vero, ma sarà posto con l'indicazione che c'è. Quindi nessuno, a sua, diciamo, contro la sua volontà, ingerirà o consumerà farina di insetti, perché a meno che, certo può capitare che uno non sa leggere, o per distrazione, però, diciamo così, sarà chiaramente scritto su queste confezioni. Questa è la cosa. Le altre fake news che vedo, vedo tanti video sbagliati, vedo anche tarantole e scorpioni. Ricordiamo che tarantole e scorpioni non sono insetti, sono arachnidi e tutta un'altra cosa. Per un biologo, sì, è chiaro, però, per rendere conto alle persone della differenza, è come se parlassimo di mucche o di uccelli, insomma, c'è una grande differenza, anche se fanno parte tutte del filo artropoli. Quindi queste sono le cose. Ricordiamo poi che quindi la legislazione ci mette a riparo da queste cose, c'è un ente che si chiama l'FSA, che è l'European Food Safety Authority, che è l'autorità per il controllo della qualità dei cibi, che accetta delle domande di missione in commercio di specie di insetti solo portando un dossier che ne attesti la validità, che ne scongiuri i rischi e pericoli, così come rischi e pericoli ci possono essere anche negli animali di allevamento. Una frase che mi piace dire, che l'ho detta più volte, è che non è che una cosa perché la conosciamo è nota smette di avere pericoli, né che una cosa nuova abbia per forza pericoli. Per esempio, l'altra settimana ero diciamo in un supermarket aspettando che finisse di grandinare un paio di settimane fa e distrattamente guardavo vicino alla porta dove scritto molto piccolo devo dire un foglio a quattro quindi non un cartello c'era il richiamo di sapete cosa? Di pistacchi di pistacchi che tutti consumano mentre guardano la televisione no? Fine pasto così richiamati perché contenevano un livello di aflatossina B1 che è un amico tossina più elevati del consentito dalla legge. Ora due considerazioni non dico il supermarket però vorrei sapere chi ha letto una cosa così piccola perché non ha letto nessuno richiamo perché è scritto su un foglio a quattro ci devi proprio andare a sbattere contro io ci sono andato praticamente a sbattere contro e secondo questi pistacchi la gente già li avrà mangiati comunque il pistacchio è una cosa completamente conosciuta completamente nota eppure la aflatossina B1 è cancerogena nefrotossica è patotossica quindi non è che stanno scherzando ricordiamo che l'allevamento di insetti ha le stesse problematiche che hanno gli allevamenti degli animali che noi sappiamo conosce quindi malattie batteriche virali contaminanti quindi arsenico metalli pesanti cadmio e ovviamente diossina pesticidi e tutte queste cose qui naturalmente però ripeto ce l'hanno anche le mucche ce l'hanno anche i maiali ce l'hanno tutti gli animali di allevamento quindi ovviamente per legge si dovrà dimostrare la qualità del cibo che si prepara la qualità dei derivati degli insetti che dovranno essere liberi da tutte queste cose e quindi c'è lo stesso controllo che c'è tant'è vero che gli insetti a livello della comunità europea vengono chiamati mini bestiali e addirittura pensate che ci cominciano ad essere leggi e il loro allevamento dovrà garantire il loro benessere perché ovviamente il loro benessere quindi la pulizia l'accuratezza nel tenerli l'accuratezza del terreno di cultura della lettiera diciamo così perché naturalmente questo garantisce nella filiera poi il consumo a livello umano quindi non è che stiamo parlando del cibo di strada che vediamo per esempio con tutto rispetto in Cina in India quelle sono altre cose di quello non abbiamo notizie non abbiamo controllo qui in Europa e nei paesi occidentali per esempio ce n'è gran consumo già di insetti in Olanda nei paesi bassi in Belgio comunemente già da prima già da prima di noi sono paesi che sono molto all'avanguardia ripeto sarà un'integrazione sarà un'integrazione voluta controllata da tutti i punti di vista e naturalmente ci sono dei rischi sempre nell'alimentazione per esempio gli insetti possono anche i derivati di insetti provocare allergie per esempio in chi è allergico ai crostaci in chi è allergico agli agari della polvere però io per esempio sono allergico ai crostaci e già non mangio gamberi e gamberoni e non posso mangiarli perché mi gonfio tutto quindi naturalmente non mangerò neanche insetti però naturalmente ogni specie che viene introdotta viene valutata anche da questo punto di vista ricordiamo che gli insetti hanno un esoscheletro che è la chitina esatto posso fare una domanda su questo la nostra capacità digestiva della chitina in effetti esatto allora la chitina io già citando chitosano penso che evocano nella memoria di parecchie persone un integratore alimentare del chitosano che viene utilizzato per la dieta perché la chitina lega diciamo dei grassi all'interno dell'intestino può abbassare addirittura il colesterolo noi non la digeriamo chiaramente però male non fa ricordiamo che leggevo una ricerca qualche giorno fa che l'uomo ha delle vestigie di geni che codificano per enzimi che digeriscono la chitina quindi c'è qualcuno che la chitina la potrebbe anche un po' digerire però ricordiamo che appunto la troviamo nei prodotti negli integratori alimentari cosiddetto chitosano che viene utilizzato per abbassare il colesterolo per ridurre la fame per motivi dietetici quindi da questo punto se non c'è appunto rischio di allergia se uno non è allergico al chitosano non sarà allergico neanche alla chitina contenuta negli insetti diciamo e quindi questo è il punto di vista che dovrà essere portato avanti quindi le allergie non sono consigliate per ragazzi sotto i 18 anni per adesso no quindi questa integrazione alimentare per adesso non riguarderà i ragazzi sotto i 18 anni e vanno valutate appunto con un dossier molto feroce tutti i possibili rischi che possono portare questi alimenti che sono alimenti nella nostra filiera nella cultura di massa nella cultura di massa l'insetto hanno fatto delle indagini di mercato naturalmente provocare il brezzo come ripeto però ha un conto dire scarafaggi e vermi scarafaggi uno ha l'immagine delle platte che sono strisciano nelle fogne in realtà non saranno così perché le specie adesso che sono state diciamo consentite dalla UE sono il tenebrio molitor che sarebbe la tarma della farina la tarma della farina è un contaminante da sempre della farina signori qui c'è da fare due scelte la tarma della farina per toglierla dalla farina per riempire di pesticidi la farina e sapevate che inconsapevolmente ognuno di noi in Italia mangia circa mezzo chilo di insetti l'anno mangiando la pasta perché è impossibile levare la larva della tarma la larva della farina dalle farine perché se lo facessimo noi moriremmo di pesticidi perché per mandare a zero questi questi contaminanti perché ad oggi sono contaminanti nella farina noi dovremmo riempire di pesticidi le terrate alimentari tali che insomma c'è da scegliere comunque nella Unione Europea in Italia si mangia circa c'è un consumo inconsapevole di insetti di circa mezzo chilometro quindi noi già ti mangiamo gli insetti sono presenti anche nella cioccolata e in altri prodotti lavorati riveli queste cose Robby e nessuno comprerà più no qualsiasi tipo di pasta che c'è nel pane quotidiano di tutti i giorni sempre ma è interessantissimo quello che dici perché poi quando non lo sai non ci fai caso non lo sapevo neanche io certo non lo sapevo neanche io poi l'ho letto chiaramente allora siccome qui c'è c'è Liliana che dice con tutto il rispetto per la scelta che ognuno può mangiare quello che vuole l'Italia però è stata classificata al primo posto per il suo cibo pensate che introducendo gli alimenti con insetti continuerà sempre a essere al primo posto che è un po' quello che ti dicevo prima sì sì continuerà a essere al primo posto perché innanzitutto è un'integrazione non è una forzatura è come se noi introducessimo nell'alimentazione un cibo proveniente dall'estero però non è che tutti i giorni lo mangerà insomma ecco lo sarà una cosa consapevole sarà un aiuto in più perché in futuro costerà poco questo cibo ma non costerà poco per esempio potremmo togliere dalle farine di insetti il glutine per esempio mi viene in mente che il celiaco deve mangiare la pasta senza glutine però la pasta senza glutine ricordo che il glutine è la parte proteica della pasta quindi il celiaco si toglie dall'alimentazione un bel po' di proteine perché la pasta senza glutine è pasta a proteica se questa pasta venisse integrata un domani con la farina di insetto senza glutine gli potrebbe reintegrare quelle proteine che il celiaco ci sono dei celiaci gravi non mangiano questo è un aspetto così però insomma mi viene da pensare già a questa a questa cosa qui insomma che può essere interessante quindi non è sul rischio per la nostra alimentazione non ci saranno poi se ci saranno locali ristoranti etnici dove ci saranno serviti gli insetti da un punto di vista proprio culinario quella sarà una scelta propria insomma ecco però non sarà la cosa credo Roberto che a livello proprio culturale sarà un po' difficile questa cosa di accettare che nel cibo italiano si possa inserire questo tipo di per quanto può essere sostenibile per quanto io come tu hai detto prima appunto vivendo in Messico sinceramente non sono stata con persone che mangiavano insetti però il mio maestro mi faceva sempre fare queste prove un po' di sopravvivenza e mi diceva appunto che li dovevo provare quindi mi ha fatto fare questa esperienza a casa sua di diversi insettini ma lì era poi tutta una sfida che si creava anche tra di noi per così anche un po' per gioco ti dico non li mangerei io solitamente non è una cosa un alimento che particolarmente però capisco che in una visione a futuro nel caso in cui siamo veramente ridotti al senza cibo io penso che insomma il nostro istinto di sopravvivenza ci porterebbe probabilmente anche a mangiare quelli come si è visto in qualche esperienza diretta non so se tu hai visto il film live di questo aereo che cade nelle montagne del Sud America alla fine si mangiano tra di loro ora sto parlando di una cosa estrema per carità quindi si parla di questo però ecco come all'interno della nostra cultura comunque si sono introdotti i cibi appunto come hai detto tu prima etnici che non sono tipici del nostro palato italiano però ogni tanto a uno fa piacere mangiarli non escludo che possa essere anche questo una prova non lo so comunque saranno elaborati gli insetti quindi non mangi l'insetto intero l'insetto intero mangi tu un elaborato delle proteine saranno sgrassate le farine e saranno levati tutti i contaminanti quindi è un elaborato quindi tu non mangi l'insetto intero quindi dal punto di vista del disgusto la cosa si allontana un po' d'altronde il disgusto per esempio uno lo potrebbe provare anche mangiando le ostri che le ostri che vanno mangiate addirittura vive infatti a me non piacciono per esempio un patrimonio dell'Italia che però è stato proibito dalla UE nel 2005 è il caso Marzu il famoso caso Marzu sardo dove ci sono proprio le larve che digeriscono il latte del formaggio e gli danno un sapore eccezionale che vanno mangiate loro non è che le devi levare perché loro sono piene di cioè noi facciamo delle cose che ci sembrano usuali e che usuali non sono sono strane per esempio mangiamo qualcuno forse ha mangiato non è che lo mangiamo sempre il cambert il formaggio marmorizzato francese il formaggio marmorizzato francese la storia dice che un pastorello tanti anni fa c'era il greggio lo sorprese un acquazzone è andato dentro una grotta non sapendo che fare si è messo a mangiare pane e formaggio che si era portato poi si sa perché si era dimenticato un pezzo di formaggio quando successivamente per la stessa venienza è ritornato nella stessa grotta l'ha trovato marmorizzato spinto dalla fame dalla curiosità se l'ha mangiato e ha visto che era molto molto buono oggi per rifare la stessa cosa questo formaggio viene inoculato col penicillium camberti che è una muffa appositamente e ce ne sono tanti tipi perché c'è il camberti poi ce ne sono il briè eppure viene considerato un piatto nazionale francese una prelibatezza della Francia un onore della Francia come per esempio un onore per noi adesso che viene considerato un piatto d'eccellenza la mozzarella di bufala che è fatta esportare in Francia cosicché loro sono orgogliosi di dare all'Europa al mondo il formaggio briè o camberti che pure è muffo quindi noi ci mangiamo la muffa perché non va capato il formaggio camberti viene mangiato con la muffa ripeto il ribrezzo viene quando uno ti danno un piatto di larve di cavallette per esempio in Unganda c'è il cosiddetto un senene che sono proprio le cavallette fritte nel proprio olio che addirittura risparmiano l'olio di frittura al piatto nazionale loro nelle due volte che c'è la migrazione di queste cavallette che sono delle locuste ci sono proprio della gente che vive l'economia di questa gente basata sulla cattura e la vendita di questi insetti guarda Roby che per esempio vabbè adesso in Oriente che io sono stata tante volte per loro è una prelibatezza in Messico adesso mentre parli mi fai pensare un'altra prelibatezza che loro mangiano tipo veramente snack con la tequila o il mescale sono appunto delle cavallettine che sono di diverse dimensioni sono sia le grandi che le piccoline che non ti accorgi neanche che le saltano in padella con l'aglio e il peperoncino e se le mangiano io le ho mangiate tante volte così e sono uno degli alimenti più prelibati allora dico una cosa io non so allora vorrei fare una chiarezza perché stanno venendo delle domande che sono un pochettino ci stanno imputando un po' il fatto che stiamo cercando di far propaganda agli insetti questa serata non è assolutamente per fare propaganda per fare un'idea vera è semplice ne deve fare un po' di chiacchiere su questo tema e un pochettino magari visto che comunque verranno inserite a prescindere che noi siamo d'accordo oppure no facciamo due no? un attimo di chiarezza su alcuni punti però io sinceramente adesso rispondo così velocemente a un paio di domande che vedo qua non credo che nessuno ci imporrà nulla di tutto ciò per cui ecco tutti questi temi un po' complottisti non sono nella mia linea e chi mi conosce lo sa per cui ecco eviterei di entrare in questo panico questa rabbia da puntare il dito a qualcosa che non è ancora accaduto e non accadrà così come non è accaduto per tante altre cose ma vorrei leggerti questa considerazione domanda che mi sembra invece molto pertinente di Monica che dice a me sembra una forzatura parlare di introduzione delle farine di insetto per ridurre l'impatto degli allevamenti intensivi e quindi per un discorso di ecosostenibilità la dieta vegana o vegetariana non può essere comunque un'alimentazione completa che può essere sostenibile? non è sostenibile perché le terre da coltivare saranno sempre di meno quindi se da oggi per esempio faccio una domanda estremistica io mettiamo che da domattina tutto il resto della terra diventa vegana dove la troviamo la soglia tutti gli alimenti vegani dove li troviamo? le terre sono quelle lì eh già stiamo deforestando per coltivare la soglia voi siete contenti veramente che deforestiamo per coltivare la soglia? io sono un grandissimo amante degli animali Francesca lo sa entrambi però non sono né vegetariano né vegano e sono quello che viene chiamato non mi viene l'ho letto l'altro ieri diciamo uno transiente vale a dire sono uno che mangia meno frequentemente la città già questa è una cosa importante però se da domani è una cosa che ho fatto anche una discussione con altre persone vegane se da domani noi diventassimo tutti vegani voi pensate che 40 milioni di mucche che ci sono in Europa sarebbero vive? voi pensate che l'allevatore le terrebbe come animali da compagnia? che i mezzo milione di maiali che ci sono per ogni allevamento multipiano in Cina sarebbero tenuti come cani come animali da compagnia? o pensiamo che sarebbero abbattuti in brevissimi giorni in pochissimi giorni? se domattina tutti ci svegliamo e siamo vegani questo è quello che accadrebbe tutti i polli tutte le bestie della terra lo credo che c'è da considerare e scusami rispondo a Claudia mi sembra che questa sia una informazione corretta Claudia Roberto sta parlando della soia così come di tanti altri aspetti dell'alimentazione vegana che è vero nell'alimentazione vegana non si mangia solo soia però effettivamente credo che dobbiamo un attimino e questa è un po' una pecca che io trovo dell'essere umano perché abbiamo una visione limitata magari solamente un po' al nostro spazio ma dobbiamo guardare le tematiche in un modo un pochettino più ampio includendo tanti fattori quindi ecco sicuramente la dieta vegana include tantissime altre cose non solamente la soia tutte cose motivate però chiaramente esatto richiede terreno richiede acqua richiede fertilizzanti richiede pesticidi sono delle cose certo sicuramente ripeto ripeto se tutti domattina diventassimo vegani dove troveremmo tutto questo cibo vegano ma io non è che per carità la coscienza vegana perché non mi fraintendete ci mancherebbe però purtroppo non sarebbe sostenibile cioè non sarebbe sostenibile per l'intera terra qui come hai detto tu non ci siamo solo noi cioè io e te domattina tu sei vegano io domattina vento vegano per la mia coscienza sto al posto però per il resto dell'umanità no quindi il resto dell'umanità diciamo non potrebbe non potrebbe sostenersi con le coltivazioni che saranno saranno sempre maggiori le richieste quando saremo 10 miliardi sulla terra difficile sostenere ma manca l'alimentazione degli animali stessi di allevamento no è già un problema di fatto e non da adesso insomma è un problema da parecchi anni io quando studiai il master a Barcellona c'è già c'erano dati e su dati su queste problematiche che ci sono nel mondo quindi cioè per quello dico ci vuole una visione un pochettino più globale a volte tendiamo a essere un po' semplicistici ma io sono la prima che non mangerei assolutamente animali e li terrei liberi a fare quello che vogliono infatti insomma ho fatto certe scelte nella vita che mi hanno portato appunto a proteggerli in tutto e per tutto per cui insomma direi che qui né io né te siamo imputabili di promotori di ammazzare animali o quant'altro però si sta facendo un discorso un po' di sostenibilità 160 gradi diciamo così voi pensate che quando voi pensate che quando dovevo fare la tesi io tanti anni fa la dovevo fare col gruppo di Rita Levi Montalcini semplicemente che andai faccio brevemente questa cosa stavo aspettando di essere ricevuto non da lei ma dai suoi collaboratori ovviamente il gruppo era vasto allora vedo arrivare un signore che porta una gabbia con dei topi bianchi aspetto un altro dieci minuti viene un signore con una gabbia con i conigli quando è venuto un signore che c'era il guinzaglio un cane io mi sono alzato e me ne sono andato sapete dove l'ho fatta la tesi la tesi di Laura l'ho fatto sulle micotossine perché non volevo e non ho mai toccato animali quindi per la mia coscienza poi se uno ci crede bene o no l'amore per gli animali mi ha portato a fare delle scelte di vita anche lavorative anche da un punto di vista etico quindi sicuramente l'opinione sui vegani vegetariani per me è il surplus ci mancherebbe però non è sostenibile per tutti e questa è una cosa che si deve accettare perché nella vita non siamo solo noi poi se uno vuole essere in pace con la sua coscienza così come io sono stato in pace con la mia coscienza ad andare via che poi mi telefonò la persona che mi aveva portato lì dice ma che te ne sono andato mi fa c'era il telefono fisso la sera mi hanno telefonato ma che ha fatto te ne sono andato me ne sono andato sì i conigli i cavi e il cane me ne sono andato però ripeto sulla terra non siamo soli la terra non finirà con me non finirà con Francesco io credo Roby che bisognerà per rendere sostenibile un'alimentazione di questo tipo dove veramente c'è rispetto per gli animali per ogni essere vivente bisogna cambiare non solo l'alimentazione ma un sistema certo perché probabilmente si riuscirebbe ad arrivare a che fosse sostenibile ma devono cambiare veramente tante cose e almeno l'economia non mi sembra una cosa possibile ahimè cioè mi piacerebbe molto per lo meno non in breve tempo per lo meno non in breve tempo ecco quindi da tutti i punti di vista comunque ripeto l'insetto come hai detto te non sarà una forzatura nessuno sarà obbligato a mangiarli sarà chiaramente indicato lungi da me ad essere uno che lo consiglia o no però perdonatemi no io ho fatto una trasmissione dove ho un po' discorso perché per me è manipolare le menti dicendo da domani vi imporranno di mangiare scarafaggi e i vermi questa è una manipolazione è uguale a quella che uno tenta di combattere per altri motivi anche questo è manipolare no se io vi dico da domani vi imporranno di mangiare scarafaggi e insetti ribellati la trasmissione è finita qui non è così è molto riduttivo quindi bisogna bisogna che uno si faccia io lo faccio per voi di farvi un'idea perché probabilmente i vostri figli i figli dei nostri figli ci avranno come integrazione nella dieta così come ci hanno oggi le ostri così ci hanno il formaggio briè ma così come ci hanno tante altre cose ci fanno anche i derivati da insetti poi per esempio ecco adesso mi è venuto in mente che per esempio noi già li mangiamo i derivati da insetti per esempio le 120 colorante 120 che voi trovate nei succhi d'arancia rossa che ci sono anche adesso andate a leggere che è contenuto in alcuni sprizzi era contenuto nell'al-kermes è la cocciniglia la cocciniglia che in arabo si dice kermitz al-kermitz sarebbe la cocciniglia al-kermes quindi questi coloranti a 120 sono derivati dalle larve della cocciniglia le larve della cocciniglia che hanno le femmine sacernano questo 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 liquido che poi origina al carminio sempre derivato da kermitz al rosso carminio quindi lo troviamo negli sprizzi lo troviamo negli aperitivi lo troviamo nel marshmallow lo troviamo nelle caramelle lo troviamo nel sup di frutta rossa lo troviamo dovunque nei rossetti c'è stato per centinaia d'anni nei rossetti i rossetti che le signore portano possono contenere le 120 oggi le 120 viene sostituito ma non perché per affetto verso le persone ma perché è estremamente costoso perché ci vogliono centomila cocciniglie per fare un chilogrammo di carminio e tocca tocca allevarle sulle piante perché sono dei diciamo dei parassiti di alcune piante ci voglia quindi un grandissimo costo e vengono sostituiti le 120 con un colorante artificiale che è cancerogeno quindi gli insetti li abbiamo mangiati le cocciniglie poi per esempio c'è le 904 un altro colorante che è la la ceralac che dà la lucidità ai confetti per le comunioni alle pillole per dimagrire a qualsiasi cosa debba avere una lucentezza è fatta pure quella da un rinottero cioè da un insetto quindi li abbiamo mangiati gli insetti non è che non li abbiamo mangiati è che non lo sapevate non lo sapevamo manco io lo sapevo quindi le 120 quando uno si va a prendere uno sprizzo che ti prende uno sprizzo rosso dentro c'è la cocciniglia che è un insetto da domani nessuno di questi che guardano no perché non l'abbiamo non l'abbiamo saputo e quindi domani mangeremo un derivato non è che mi danno una cavalletta fritta dentro il piatto io me la mangio oppure mangio un cracker dentro apro e mi trovo mezza cavalletta non sarà così ma non è che io voglio far mangiare a me non mi interessa niente non ho azioni di società che producono farina di insetto e solo vorrei dare delle informazioni esatte perché vedo sia sul web sia nei social sia in alcune trasmissioni purtroppo che si manipolano al contrario le persone perché dare informazione sbagliata per me è criminale diciamo ma perché uno si deve fare la più giusta delle opinioni no assolutamente ma infatti io e te ci siamo poi trovati quelle due o tre volte per parlare di cose giusto per dare degli spunti di riflessione un po' di discernimento poi ognuno deve fare quello chi gli pare questa è la base di tutto oltretutto ripeto che noi non stiamo prendendo nessuna posizione ma semplicemente facendo una chiacchierata di queste cose adesso sicuramente verranno fuori moltissimi alimenti o cose che avevano già derivati da insetti o quant'altro e ci renderemo conto che poi alla fine non è così strano ma così cambia una cultura ci vuole del tempo sicuramente che sia bene che sia male io non lo so questo se lo dirà il tempo chiaramente non lo possiamo dire adesso però ecco già alcune cose già le facciamo insomma certo se gli andiamo a dire ai cinesi di togliere tutta una serie di insetti dalla loro alimentazione ci guarderebbero veramente storto quindi anche lì ti rendi conto come è un fatto culturale come ci dicevamo prima di iniziare la diretta per l'italiano la cultura del cibo è tanto certo ma insomma poi come ripetevo ci sono anche delle fasce povere c'è l'est Europa e non ce lo nascondiamo no perché insomma c'è sta gente che tre volte al giorno non mangia la carne non la mangia fonti proteiche non ce n'ha adesso io non posso dire a una persona dell'est Europa che non ha sostentamento di diventare vegano no se io gli potessi fornire un domani una farina proteica derivata dagli insetti a basso costo farei farei del bene insomma credo no farei un po' del bene non lo so quindi ripeto la UE non è c'è sta solo l'Italia solo la Francia la Germania c'è sta un po' tutto no nella UE lo sapete per cui ci sono fasce di popolazione che non possono accedere a risorse alimentari valide non tutti la carne costa la carne costa per dire o chi mangia la carne non trattiamo i vegani vegetariani per carità e sul discorso degli amminoacidi sui vegani non mi inoltro e va bene però rispetto alla nostra ospite alla trasmissione non dico nulla però per esempio le farine proteiche dei insetti sono complete dal punto di vista nutrizionale per cui per persone che magari vedono la carne una volta a due settimane avere un cibo a basso costo proteico più valido addirittura della carne non la vedrei male insomma ecco bisogna vedere tutti i punti di vista questa è la cosa la cosa più bella io penso che si possa dare dell'informazione sì io credo che appunto non c'è un solo punto di vista ma ce ne sono tanti e va proprio contestualizzato ovviamente in base a dove sei adesso stavo leggendo Monique che fa una citazione di un antropologo leggo solo il primo pezzo dice i popoli europei non hanno mai mostrato di gradire molto gli insetti come cibo sono state trovate alcune testimonianze storiche risalenti all'antichità e al medioevo ma si tratta pur sempre di usanze marginali occasionali eccetera eccetera è relativo nel senso che io credo proprio che stiamo andando verso tantissimi cambiamenti Anna infatti cita si mangiano le lumache di terra ma in Puglia ma non solamente in Puglia Anna anche qua io mi ricordo da piccolina con i miei genitori andavamo io no perché facevano un po' senso però mangiavano le rane fritte sì 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 ma pure qui in Lazio si mangia rane fritte sanno di bollo le rane e non mi ricordo perché io mi sa che non le ho mai mangiate io le ho mangiate una volta mia nonna me le ha fatte mangiare da piccolo me lo ricordo leggermente di bollo sanno io ricordo però che loro andavano giù di testa si trovavano le lumache anche le lumache non lo so forse dovremmo aprirci un attimino no? fa parte della cultura fa parte delle cose insomma delle scelte di vita che si faranno però è un po' di dire che dobbiamo per forza mangiarli no avendo viaggiato tanto vi assicuro che la prima volta che sono stata in Thailandia e mi sono ritrovata in uno di questi mercati con questi coni tipo popcorn che dove ti mettevano le robe fritti gli insetti fritti sono rimasta scioccata quindi ammetto che mi ha fatto abbastanza sì sì farebbe diciamo cosa a tutti quanti però lì te li davano proprio belli interi no? sì sì certo con l'immagine proprio dell'insetto arbustolito certo non sarà così qui no questo no nel mondo occidentale non sarà così saranno dei derivati poi per esempio in Messico dopo tanti anni che vivevo lì che c'è questa famosa salsa di cicatana si chiamano praticamente alla prima pioggia le prime due notti di piogge che lì sai che sono a periodi no? vengono fuori queste formiche con le ali ma pieno tu ti ritrovi dove c'hai la luce che è pieno completamente piena di queste quindi loro le prendono perché solo due notti all'anno vengono fuori e ci fanno questa salsa piccante per cinque anni e al sesto anno ho detto fammi sentire con me sta cosa perché dico la verità deliziosa deliziosa hai esistito cinque anni però hai esistito cinque anni perché insomma mi faceva un po' in Europa non si è mai diciamo diffuso l'insetto perché in Europa ci abbiamo avuto sempre da mangiare c'era la caccia c'era la selvaggina il clima che abbiamo in Europa consente lo sviluppo di una catena alimentare basta quindi l'alimentazione europea non ha risentito di di carestie ce ne ha avute l'Europa nel corso del medioevo e di altre cose non è escluso che la gente abbia mangiato i lombrichi abbia mangiato anche anche i topi in Europa sono stati mangiati durante le carestie ci sono state però storicamente noi ci abbiamo mai avuto carenze di cibi ci abbiamo animali di allevamento siamo stati sempre allevatori cacciatori e il clima dell'Europa ha sempre consentito una come si chiama una catena alimentare ben ricca dal piccolo mammifero al grande mammifero agli uccelli quindi ci ha consentito però questo quindi non abbiamo mai avuto necessità di consumare insetti ma questo non vuol dire che appunto oggi ripeto non c'è più diciamo questa disponibilità di cibo anche in fasce deboli della popolazione che non possono accedere a risorse alimentari ottimali sempre tu dici una cosa scandalosa no lo dico perché così è dimostrato ci sono persone che sono alla soglia della povertà qui in Italia ed in Europa nella UE e quindi non ci possiamo immaginare ricordavo che va a caccia del cervo del cinghiale quello che sia possiamo ammazzare tutti i cinghiali di Roma che a me mi fanno una tenerezza immensa per carità di Dio però c'è gente che non riesce a mettere il pranzo con la cena questo questo va detto allora questo sarà sempre più questo divario che ci saranno persone sempre più ricche persone sempre più povere non lo dico io lo dice purtroppo la storia quindi pensate fra 40 anni 30 anni come sarà la situazione uno mi potrebbe dire beh allora se vi mangeranno fra 50 anni ma da qualche parte bisogna cominciare si parte prima per esempio molta gente si domanda questa mia madre che ha 95 anni mi dice ma perché stiamo riandando sulla luna perché stiamo andando su Marte stiamo riandando su luna su Marte perché un giorno sulla terra non c'entriamo più non è che io quando morio io ho morito tutti quelli che stanno lì fra 100 anni vi auguro la terra finisce la gente quando saremo 30 miliardi non c'entriamo sulla terra non solo che ci mangiamo ma dove ci mettiamo uno sopra l'altro e quindi dovremmo pensare che colonizzerà la terra anche altri pianeti quindi ecco la scienza ci dice che bisogna valutare le cose a 360 gradi quindi questo è lo scopo di questa chiacchierata non è di invogliare nessuno ma di avere un'informazione completa e di non dare retta né chi vi dice mangiateli senza nessuna riserva né chi vi dice però che vi obblicheranno a mangiare scarafaggi e i verni sono due estremi opposti la verità ce l'avete voi dentro di voi la elaborerete la elaborerete dentro di voi sì vorrei solamente che rispondiamo a quest'ultima aspetta che mi sta per scaricare e dopo non riesco più Monica ha fatto parecchi interventi poi magari Roby dopo te li vai a guardare anche sotto il video che se ti va insomma gli rispondi però quest'ultimo ci terrei un attimino perché anche trovo che ci siano un po' di di fake idee abbiamo comunque qualche altro minuto ce l'abbiamo siamo di fondo però è un'altra domanda lei dice noi siamo quello che mangiamo e sono d'accordissimo anche diceva il filosofo Ludwig vabbè ciò che viene introdotto nel nostro organismo non influenza soltanto il corpo ma anche i processi energetici psicologici e spirituali e aggiungerei emotivi di fatto in tutta la letteratura chi mangia insetti e similia quindi lei dice se si mangiano insetti cosa diventiamo però io vorrei anche fare un attimo una parentesi se noi pensiamo che stiamo mangiando sano anche quando andiamo a comprare le verdure al supermercato abbiamo preso veramente fischi per fiaschi perché ad oggi sappiamo molto bene come sono coltivate tante cose come sono ridotti i terreni quindi perché è utile fare anche integrazione vitaminica piuttosto che di minerali e quant'altro si è resa quasi obbligatoria ad oggi quando parlo con la mia nonna che veramente 50, 60, 70 anni fa avevano gli orti e stavano nei campi tutto il tempo e avevano delle cose che tuttora quando ogni tanto i contadini ci regalan della roba o andiamo a comprarle si sente la differenza di sapore comunque appunto come hai detto giustamente te essendo esperto di contaminazione degli alimenti voi sapete che non esiste alimento che non contenga micotossine le micotossine sono ovunque nel latte nel burro il formaggio nelle carni nei derivati vegetali pensate che sono così distribuite le micotossine che appunto la legislatura accetta un limite ma cosa vuol dire accettare un limite cioè zero non lo possiamo mai trovare si accetta un limite ma non è che per esempio la tolleranza di una persona è diversa l'una all'altra quindi avere un limite superato il quale viene fatto il richiamo ma diciamo inferiore a quello viene tollerata non significa niente cioè noi mangiamo contaminanti tutti i giorni perché se uno dice ma io vado a comprare da contadino a chilometro zero vado al negozio biologico vado a quello ma quanti se lo possono permettere quanti ne hanno accesso appunto a questo quindi ripeto la frase che vi voglio lasciare è che non tutto quello che già conosciamo finisce di essere pericoloso non tutto quello che è nuovo è per forza pericoloso ognuno va valutato ogni cosa va valutata nel tempo e per quello che diceva la signora diciamo siamo quello che mangiamo ricordiamo che per esempio già le trote salmonate possono mangiare le larve essiccate di Tenebio Molito e quindi guarda Roby non toccare il tema pesce perché potrei farti veramente un convegno di quanto è malzano il pesce che troviamo ah beh per non parlare del verme dei pesci azzurri va bene del Danisakis e compagnia bella se no facciamo più mangiare pesce a nessuno lasciamo vedere come scrive Monique lei si impegna a mangiare sano anche io e la maggioranza delle persone che conosco però è vero anche che di nuovo non dobbiamo pensare solo a me te e altri 50 persone dobbiamo pensare in una visione dove no ce ne siamo guardi quindi è un po' diverso ecco il fatto come dicevi tu anche di permettersi insomma la frutta la verdura sta crescendo di prezzo in una maniera spropositata insomma inizia a diventare complesso per alcune famiglie per alcune realtà quindi dobbiamo anche pensare che potrebbe essere un'opzione per quanto può essere disgustoso o quant'altro più sostenibile nei prossimi non lo so 50-100 anni non ho idea pure 30 pure meno sicuramente volevo essere positiva sì 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 ma no purtroppo possiamo andare lì e non è una cosa che perché ne parliamo mi piace l'idea questo vorrei anche sottolinearlo mi dispiace molto io personalmente per adesso ho un'idea neutra per cui non sono né pro né contro però c'è una certa qual curiositas da biologo per cui molto curiosi di sapere certe cose però è vero anche che dall'altra parte penso che la condividi con me il fatto che avendo anche una certa conoscenza spesso ho pensato che si possono fare le cose un po' meglio per riuscire ad arrivare a una sostenibilità proprio delle nostre risorse planetari chiamiamole così non solo alimentari è vero che si potrebbe però la realtà ci dice altro forse non si vuole io non lo so c'è anche molta ignoranza molta ignoranza ma non di conoscenza scientifica ignoranza nell'accezione proprio del termine che si ignora per esempio che appunto io non sopporto un blogger che vado a dire vi stanno vi obblicheranno a mangiare scarafaggi e verdi questo non è corretto non è non è corretto è manipolare le menti delle persone e come poi combatti chi manipola le menti delle persone in altro modo ti lamenti ma tu stai facendo lo stesso però appunto come hai detto te fai fare un'idea a 360 gradi alle persone e per farsi un'idea a 360 gradi è come un avvocato che difende è un criminale e deve sapere il buono e il cattivo di quello se no non lo posso difendere no? cioè non lo posso conoscere se io conosco solo quello che mi fai sapere tu è troppo comodo la cosa no? non ci sarebbe neanche il processo per dire quindi gli insetti non vanno come dire condannati senza senza processo poverini no? scherzo però il processo va fatto i giurati devono sapere tutti i fatti degli insetti e dopo possono emettere un verdetto giusto no? quindi il verdetto più neutrale possibile e se invece uno fa la ringa e vi dice vi faranno vi obblicheranno a mangiare scarapaggi e vermi il verdetto già è stato dato va bene direi che insomma abbiamo toccato tanti punti io spero insomma sia stato interessante a prescindere ripeto che noi non abbiamo posizioni no no altra al momento è così grazie Roby come sempre di chiaccherebbe di chiacchierare con noi di accettare dell'ospitalità sempre su temi un po' caldi io ti invito sempre a tu sei la padrona di casa tu sei eccezionale te l'ho sempre detto grazie la scienziata sei tu io non sono nulla sei tu e io insomma un pochettino approfitto delle tue conoscenze perché sono servono a tutti ci arricchiscono molto quindi grazie veramente bene grazie a tutti quelli che sono stati qui spero che possa essere stato di spunto così di riflessione e ci vedremo più avanti magari con altre novità buonasera buonasera a tutti buonanotte grazie buonasera a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti